Come dovrebbero essere i giardini che Piacenza vorrebbe? Lo abbiamo chiesto ai cittadini presenti alla camminata esplorativa nei giardini Margherita e Padre Gerardo che è stata organizzata nell'ambito del progetto Giardini da Vivere, promosso dall'amministrazione comunale. I giardini che la città vuole sono con una cura del verde e quindi la possibilità per i bambini di scorrazzare all'interno dei giardini, la possibilità di poter avere il chioschetto e magari un campo giochi funzionante. Dei prati utilizzabili anche per il picnic senza che diventino dei bivacchi, delle panchine per leggere in pace e in tranquillità, un verde curato, anche eventuali passeggiate botaniche in modo che si sappia davvero che cosa, quali specie particolari ci sono perché è un giardino meraviglioso e non tutti lo sanno, chioschetto anch'io lo metterei onestamente. Devono essere dei giardini accessibili, giardini sicuri, giardini sostanzialmente per tutti, per persone disabili, per bambini, per normodotati, per tutti quanti hanno desiderio di poter accedere ai giardini. Dei gruppi potrebbero venire qua e fare un giro nel giardino e vedere questi magari alberi secolari. All'incontro sono intervenuti anche gli assessori Luca Zandonella e Paolo Mancioppi. Abbiamo in essere alcuni progetti per il rilancio di quest'area e oggi è l'occasione per confrontarsi con l'associazione e con i cittadini in modo tale da raccogliere quelle che possono essere le idee e le proposte che vengano direttamente da loro.